Una partita dall'alto punteggio con tanti punti da entrambe le parti, una partita che per noi quando si alza molto il punteggio e quando facciamo spesso canestro diventa sempre molto difficile. Credo che la pecca che abbiamo avuto nell'ultimo quarto è stata quella di non aver chiuso la partita, anche se devo dire onestamente che Pesaro ha fatto una partita con grande merito, segnando anche dei canestri con Pusica e Williams, veramente di grande qualità, però per noi era importante portare a casa questa partita per giocarci poi nella prossima le carte di accesso alla Coppa. Credo che la nota importante sia con quale autorità Andrea sta prendendo in mano la squadra, devo dire anche la crescita di Schappel è stata importante e era importante portarla a casa.